L'acquisto di orchidee prende sempre un certo sapore di speculazione. Davanti agli occhi si ha un mucchietto di tessuto vegetale, bruno, in forma e rugoso. Per tutto il resto bisogna affidarsi, secondo i gusti, al proprio giudizio, al battitore della vendita all'asta o alla fortuna. Magari la pianta è morta o moribonda, oppure è semplicemente un acquisto conveniente, equa a contropartita del denaro speso. Ma può anche darsi, come spesso accaduto e continua ad accadere, che sotto gli occhi estasiati del felice acquirente vada prendosi giorno per giorno una nuova varietà, una inedita sontuosità di colori, un'inconsueta piega del labello, una colorazione più sottile, un mimetismo inaspettato. Orgoglio, bellezza e tornaconto sbocciano uniti su un unico, delicato stelo verde. Forse anche una fama immortale. Qualarsi, infatti, che quel nuovo miracolo della natura abbia bisogno d'essere battezzato? In tal caso, qual nome è più adatto di quello dello scopritore? Jones Smitya. Beh, coi nomi. Ce ne sono tanti anche di peggio. Forse la speranza di una così fortunata scoperta vingeva Winter Wedderbrunn a frequentare con tanta assiduità tali vendite. La speranza, o forse anche il fatto che egli non aveva niente da fare al mondo, che rivestisse il minimo interesse. Era un individuo timido, solitario, alquanto inconcludente, che disponeva di una piccola rendita, appena tanto da tenere lontano il pungolo del bisogno, e che mancava dell'energia occorrente a cercare un'occupazione impegnativa. Avrebbe potuto allo stesso modo fare raccolta di francobogli o di monete, oppure tradurre Orazio, rilegare libri, dedicarsi alla ricerca di nuove specie di diatomee. Lui si era messo a coltivare orchidee e possedeva una piccola serra, non priva di ambizioni. «Ho una mezza impressione», disse prendendo il caffè, «che oggi mi succederà qualcosa». Parlava come si muoveva e pensava, lentamente. «Oh, non dir cose simili», disse la sua governante, che era anche una cucina alla lontana. «Succederà qualcosa?» Era per lei un effemismo con un solo significato. «Eh, frainteso, non alludevo a nulla dispiacevole, benché, per la verità, non saprei dire di che cosa si possa trattare». E dopo un silenzio proseguì. «Da Peters, oggi, c'è la vendita di una partita di piante provenienti dalle andavane e dalle indie. Andrò un po' a vedere che cos'hanno». «Magari comprerò qualcosa, se capita. Può darsi». E la raccolta di quel povero giovanotto, di cui mi parlavi l'altro giorno, chiese la cugina versandogli il caffè. «Sì», egli disse, e si fece pensieroso su una fetta di pane tostato. «Non mi succede mai niente», fece poi come parlando tra sé. «Chissà perché. Agli altri succedono tante cose. Harvey, per esempio. Non più tardi della scorsa settimana. Lunedì ha trovato una moneta da sei penni. Mercoledì i suoi pulcini hanno avuto tutti le vertigini. Venerdì mi è arrivato il cugino dall'Australia. E sabato si è fratturato la caviglia. «Che turbine di avvenimenti al mio confronto!» «Gli avvenimenti così ce ne può anche fare a meno», disse la governante. «Non ti gioverebbero?» «Già, forse possono dare disturbo. Tuttavia, capisci, non mi succede mai niente. Da ragazzino non mi sono mai capitati guai. Crescendo non mi sono innamorato. Non mi sono sposato. Mi chiedo che impressione si ha quando ci succede qualcosa di veramente notevole». Quello collezionista di orchidee è morto a soli 36 anni. Vent'anni meno di me. E si è sposato due volte. Ha divorziato una volta. Ha avuto quattro volte le febbri malariche. E una volta si è fratturato la coscia. Ha anche ucciso un malese. È stato ferito da una frezza avvelenata. Ed è finito ucciso dalle sanguisughe della giungla. Tutte cose che danno disturbo, probabilmente. Ma d'altra parte, devono essere state molto interessanti, sai. Salvo forse le sanguisughe. «Sono certe che non gli hanno giovato», disse la signora con convinzione. «Forse no, infatti». Wederbrun consultò il suo orologio. «Le otto e ventitré. Prendo il treno di mezzogiorno meno un quarto per Londra. Dunque c'è tutto il tempo. Credo che metterò la giacca di alpaca. Fa abbastanza caldo. Il cappello di feltro griso e le scarpe marrone. Forse». Guardò attraverso la finestra il cielo sereno, il giardino soleggiato, e poi si rivolge ad osservare con aria inquieta la cugina. Con voce che non ammetteva replica, questa disse «Se vai a Londra, farai bene a prendere l'ombrello. Hai da fare un bel pezzo di strada tra qui e la stazione, all'andata e al ritorno». Rientrando a casa, egli era in uno stato di blanda agitazione. Aveva fatto un acquisto. Accadeva raramente che sapesse decidersi abbastanza in fretta per poter comperare. Ma questa volta c'era riuscito. «Queste sono vande», diceva, «e una deodrobia e alcune paleonofis». Osservava amorosamente i suoi acquisti, sorbendo la zuppa. Erano posati davanti a lui, sulla tovaglia immacolata, e a loro proposito, egli stava dicendo alla cugina tutto quello che c'era da dire mentre spiluzzicava il suo pranzo. Era consuetudine che egli rivivesse in dettaglio la sera, ogni andata a Londra, a beneficio della cugina e proprio. Sapevo che oggi sarebbe successo qualcosa. Infatti, ho compilato tutte queste piante. Alcune. Mi sento certo, sai, che alcune risulteranno notevoli. Non so com'è, ma ne provo la certezza, quasi che qualcuno mi abbia detto che alcune di queste risulteranno notevoli. Questa qui, che aditava un rizoma grinzoso, non era identificata. Può essere e non essere una paleonofis, oppure una varietà nuova, persino un nuovo genere. E' l'ultima che il pover Batten ha raccolto. Non mi piace il suo aspetto, disse la governante. Ha una forma così orrenda. A me pare che non abbia quasi forma. Non mi piacciono quegli affaretti che sporgono, disse la sua governante. Domani sarà messa via, in vaso. All'aspetto, disse la governante, di un ragno che fa il morto. Pederbrun sorrise e osservò quella radice con la testa piegata da un lato. Senz'altro, questo mucchietto di roba non è grazioso. Ma è impossibile giudicare cose del genere in base all'aspetto che hanno quando sono secche. Potrebbe venirne fuori un'orchidea proprio molto bella. Quanto lavoro avrò domani. Danotte penserò ben bene cosa ne debbo fare di tutto questo, e domani mi metterò all'opera. Dopo un po' riprese. Hanno trovato il povero Batten caduto su un terreno paludoso, in un folto di mangrovie, morto o morente, e schiacciata sotto il peso del suo corpo, proprio una di queste orchidee. Da qualche giorno non stava bene. Una specie di febbre tropicale, credo. Immagino che fosse svenuto. Quelle paludi dove crescono le mangrovie sono molto malsane. Si dice che le sanguisciughe della giungla gli avevano succhiato fino all'ultima goccia di sangue. Forse il fatto di procurarsi proprio questa orchidea gli è costato la vita. Tutto ciò non me la rende più simpatica, né punto né poco. I uomini devono agire anche se le donne possono piangere, citò Wederbrun con profonda serietà. Che idea morire lontano da ogni comodità in una brutta palude. Che idea essere ammalati di febbri senza avere da prendere altro per curarsi all'infuori di clorodina e chinino. Gli uomini lasciati a se stessi vivrebbero di clorodina e chinino. E intorno soltanto quegli orribili indigeni. Si dice che gli isolani dell'Andamane siano odiosa gentaglia. Ed ogni modo non possono valere niente come infermieri, mancando della necessaria preparazione. E tutto ciò solo ha lo scopo di far avere delle orchidee a della gente in Inghilterra. Non penso che sia stato piacevole, ma ci sono uomini che sembrano provare piacere a questo genere di cose, disse Wederbrun. Ad ogni modo, gli indigeni della sua spedizione furono abbastanza civili per prendersi cura della sua collezione finché il suo collega, che era ornitologo, non tornò all'interno. Però non conoscevano la specie di queste orchidee e le avevano lasciate a passire. Ciò rende queste cose qua ancor più interessanti. Le rende ancor più disgustose. Dal canto mio avrai paura che vi sia rimasta attaccata un po' di malaria. E poi pensare che c'è stato un cadavere steso sotto questo orribile affare. Non ci avevo pensato. Ecco, dichiaro che non sono più in grado di mandar giù un solo boccone per stasera. Se preferisci posso toglierle dalla tavola e metterle sulla panca vicino alla finestra. Le vedo benissimo anche da lì. Nei giorni successivi egli fu infatti indaffarato in modo eccezionale nella sua piccola serra calda e umida, zingillandosi con carbone vegetale, pezzi di legno di tec, muschio e tutti gli altri arcani ingredienti del coltivatore d'orchidee. Gli parve di vivere ore piacevolmente movimentate. Stasera, tra amici, parlava di quelle nuove orchidee e più volte tornò a dire che si aspettava qualcosa di insolito. Alcune vande e la dendrobia morirono sotto le sue cure, ma ben presto la strana orchidea cominciò a dar segni di vita. Nello scoprirlo egli ne fu entusiasta e subito, strappando la sua governante alla confezione della marmellata d'aranze, la condusse a vedere. «Questa è una gemma», disse, «e qui, quanto prima, ci sarà una quantità di foglie e questi piccoli cosi che spuntano qua sono radici aeree». «Secondo me somigliano a ditini sporgenti da un color marrone», disse la governante. «Non mi piacciono». «Perché?» «Non so, sembrano dita pronte ad afferrarti. Una cosa mi piace o non mi piace? Non ci posso fare nulla». «Non lo so con certezza, ma credo che nessuna orchidea, a mia conoscenza, abbia radici aeree del tutto simili a queste. Forse è solo una mia idea, naturalmente. Vedi, sono un poco appiattita in cima». «Non mi piacciono», disse la sua governante con un improvviso brivido e voltandosi per andare via. «So che sono una sciocca e mi rincresce soprattutto per te, che sei così entusiasta di questa cosa. Io non posso fare a meno di pensare a quel cadavere». «Ma forse non era proprio questa pianta. Facevo solo una supposizione». La sua governante si strinse nelle spalle. «Non mi piace lo stesso», disse. Wederbrun rimase un po' offeso da quell'antipatia per la pianta. Ciò non gli impedì di parlare di orchidea in genere e di quella orchidea in particolare, ogni volta che nebbe voglia. «Le orchidee hanno tante bizzerrie», disse un giorno. «Riservano tante sorprese. Sai, Darwin ne ha studiato il meccanismo di fecondazione, dimostrando che tutta la struttura del fiore in un'orchidea normale è congegnata finché le falene possano portare il polline da una pianta all'altra. Ebbene, pare che si conosca una quantità di orchidee in cui il fiore non si presta assolutamente ad essere utilizzato per quel metodo di fecondazione. «Alcune cicripedie, per esempio, non vi è insetto conosciuto, che nel loro caso possa fare da agente di fecondazione, e alcune non si è mai riusciti a trovarle con il seme. Come fanno allora a formare nuove piante? Per mezzo di stoloni, di tuberi e di altre analoghe escrescenze. La spiegazione quanto a questo è facile, ma allora, i fiori, a che cosa servono? «Questo è l'indovinello!» Con ogni probabilità, soggiunse, la mia orchidea. Da questo punto di vista è forse qualcosa di fuor del comune. In tal caso ne farò uno studio. Ho spesso pensato di darmi alle ricerche, come Darwin. Ma finora non ne ho mai trovato il tempo, o è intervenuto qualcosa ad impedirmelo. «Le foglie cominciano ad aprirsi adesso. Come vorrai che tu venissi a vederle?» Ma ella rispose che il caldo eccessivo della serra le procurava il mal di testa. Aveva rivisto la pianta una volta ancora, e purtroppo le sottili radici aeree, alcune delle quali superavano adesso i 30 centimetri di lunghezza, le avevano fatto pensare a tentacoli protesi ad afferrare qualcosa. Si rivedeva in sogno, che la inseguivano crescendo con rapidità straordinaria. Perciò aveva deciso con propria completa soddisfazione di non rivedere mai più quella pianta, e Wedderbrunn dovette ammilarne le foglie da solo. Queste avevano la forma solita, larghe, di un verde profondo e untuoso, con chiazze e puntini di un rosso cupo verso l'attaccatura. Non era a conoscenza di altre foglie del tutto simili a quelle. La pianta era collocata su un panchetto basso, presso il termometro, e nelle mediate vicinanze di una semplice installazione, composta di una spina inserita nei tubi dell'acqua calda, manteneva il grado voluto di vapore nell'aria. Ed egli ora trascorreva i pomerizzi con una certa regolarità, a riflettere sull'imminente fioritura di quella pianta strana. Finalmente il grande avvenimento si produsse, appena messo piede nella piccola serra, che gli seppe che l'inflorescenza si era aperta, benché la sua grande palianofis lovi gli nascondesse alla vista l'angolo dove stava la sua nuova prediletta. Nell'aria sentiva un odore nuovo, un effluvio denso, terribilmente dolciastro, che sopraffaceva ogni altro in quella piccola serra, gremita e piena di vapore. Notando questo, egli subito si diresse alla strana orchidea. Ed ecco, le spiglie ricadenti portavano ora tre grandi cascate di fiori, che emanavano quel profumo di una dolcezza opprimente. Si fermò là davanti ad ammirare, e statico. Erano fiori bianchi, dai petali striati ed arancione dorato. Il labello si attorcigliava, formando un'intricata sporgenza, e là un meraviglioso violaceo bluastro si mescolava all'oro. Egli vide subito che si trattava di un genere completamente nuovo. E che fluvio insostenibile! Che caldo faceva là dentro! I fiori gli ondeggiavano davanti agli occhi. Vole vedere se la temperatura era giusta. Fece un passo verso il termometro. A un tratto, tutto parve malfermo. I mattoni del pavimento ballavano su e giù. Le fiori bianchi, le retrostanti foglie verdi, l'intera serra, parvero sbandare lateralmente e poi, con una curva, verso l'alto. La cucina preparò il tè alle quattro e mezza, come era loro invariabile abitudine. Ma Vedenbrun non comparve a prendere il tè. «È in adorazione di quell'orrenda orchidea», si disse la donna, ed aspettò altri dieci minuti. Gli steve essere fermato l'orologio. «Vado a chiamarlo». Andò dritta alla serra e, aprendo la porta, lo chiamò per nome. Nessuna risposta. E la notò, l'aria fuso di chiuso, carica di un intenso profumo. Poi vide qualcosa che giaceva sull'ammattonato, tra i tubi dell'acqua calda. Rimase un istante impietrita. Egli giaceva a supino, ai piedi della strana orchidea. Le piccole radici aeree non erano più antenne sospese oscillanti. Erano invece tutte ammassate, come un groviglio di corde grise, ed erano rigidamente tese, con le cime che aderivano strettamente al mento, al collo e alle mani dell'uomo. Ella non capì, ma poi vide che da uno di quegli esultanti tentacoli, posato sulla sua guancia, scorreva sotto un sottile filo di sangue. Con un grido inarticolato, corse verso di lui e cercò di tirarlo via da quelle ventose da mignatta. Strappò due di quei tentacoli e la linfa che ne gocciolò era rossa. Poi il soffocante profumo dei fiori cominciò a farle girare la testa. Come aderivano al corpo! Ella tirava su quelle dure corde, e intanto le pareva che intorno a lei vazzillassero il corpo umano ai fiori. Si sentì sul punto di svenire e non doveva. Lo abbandonò ed aprì in fretta la porta più vicina. Dopo essere rimasta a respirare ansimando un poco di aria pura, ebbe un'ispirazione luminosa. Afferrò un vaso da fiori e mandò in frantumi i vetri all'estremità della serra. Poi rientrò. Con rinnovata forza rimorchiò il corpo inerte di Wedderbrunn e provocò la caduta della strana orchidea al suolo in uno schiatto. Essa si aggrappava ancora con sinistra tenazza alla sua vittima. Violentemente, freneticamente, trascinò entrambi all'aria aperta. Allora le venne in mente di spezzare nette le radici avventose, ad una ad una, e in un minuto lo liberò e già lo trasportava lontano da quell'orrore. Egli era serio e sanguinava da una dozzina di chiazze circolari. L'uomo a ore, che veniva ad aiutare nei lavori di casa, stava avvicinandosi, richiamato dal rumore di vetri rotti e un poco stupito. La vide emerse nel giardino, trainando con le mani sporche di sangue il corpo inanimato. E per un momento gli passarono in testa le più assurde ipotesi. «Porta un po' d'acqua!» e la gridò. E questo richiamo dissipò i suoi dubbi. Quando, con una lacrità fuori del suo solito, ritornò con l'acqua, la trovò in lacrime per l'agitazione, con la testa di Wedderbrun sulle ginocchia e occupata ad asciugargli il sangue sul viso. «Che cos'è successo?» chiese Wedderbrun socchiudendo appena gli occhi e richiudendoli subito. «Chiama Annie, che venga qui fuori da me e poi va subito a chiamare il dottor Heddon!» disse all'uomo di fatica appena le ebbe dato l'acqua. E vedendolo esitare soggiunse, «Ti racconterò tutto quando torni!» Poco dopo Wedderbrun rieprì gli occhi ed ella, vedendolo perplesso per la posizione in cui si trovava, gli spiegò «Sei svenuto nella serra!» «E l'orchidea?» «Ne parliamo poi!» e la disse. Wedderbrun aveva perso molto sangue ma a parte ciò non aveva sofferto gravissimi inconvenienti. Il dedro del brandy mescolato a un rocio estratto di carne e lo trasportarono di sopra dove lo misero a letto. La sua governante raccontò a pezzi e bocconi l'incredibile storia al dottor Heddon. «Venga a dare un'occhiata alla serra!» gli disse. L'aria fredda soffiava all'interno attraverso la porta aperta e il malsano profumo si era quasi disperso. La maggior parte delle piccole radici pendule che l'aveva strappato dicevano già avvizzite tra alcune macchie scure sui mattoni. Lo stelo dell'inflorescenza si era spezzato nella caduta del vaso. I fiori già si afflosciavano e l'orlo dei petali era ingiallito. Il dottore si chinò verso il fiore poi vide che una delle radici pendule vibrava ancora debolmente ed esitò. La mattina dopo la strana orchidea diceva ancora là annerita adesso e putrescente. Ogni tanto la porta sbatteva nella brezza del mattino e tutto lo schieramento delle orchidee di Wedderbrun era accartocciato e cadente. Ma Wedderbrun dal canto suo al piano di sopra della casa era molto animato e charliero fierissimo della sua strana avventura.